Noi stiamo puntando sul sistema fieristico in provincia di Foggia provando anche a promuovere iniziative che vanno oltre le normali fiere. Questa è una fiera importante su cui la Regione Puglia ha investito, ha investito tutto il governo regionale con Michele Emiliano in testa, assessorato all'agricoltura perché la capitanata è baricentrica da questo punto di vista e anche questa fiera di Foggia vuole dare questo segnale. Noi siamo stati il primo governo regionale che ha messo in bilancio svariati milioni di euro per pagare l'IVA per consentire a questa fiera di completare i lavori perché quando c'è stato il finanziamento non era stata coperta la quota dell'IVA e noi abbiamo messo queste risorse per consentire a questa fiera di poter completare i lavori strutturali. Quindi il nostro impegno è concreto avendo messo delle poste di bilancio che prevedono milioni di euro su questa fiera. Uno i 28 milioni per gli investimenti infrastrutturali, quindi per completare innanzitutto il parcheggio che darà un volto nuovo a questo quartiere a Foggia città, darà in secondo luogo alla fiera di Foggia l'opportunità di potersi autosostenere perché quei parcheggi porteranno degli introiti all'ente fiera e quindi questo darà l'opportunità anche di reinvestire queste risorse. C'è la necessità di fare in modo che queste strutture divengano degli spazi per poter ospitare anche altri tipi di iniziative, io penso anche a spazi di co-working che si possono sviluppare qui in Fiera, ecco c'è bisogno di avere un approccio manageriale che sia di innovazione.